Il Paradiso 7, l'attrice di esperienza incredibile, progetto molto combattuto. Tra i volti di spicco del Paradiso delle Signore 7 figura l'attrice Chiara Baschetti. Che vediamo nei panni di Matilde Frigerio di Santerasmo. Il suo personaggio, nel corso di questa settima stagione della SOP, ha conquistato sempre più il gradimento del pubblico e adesso si prepara a un finale che promette grandi colpi di scena. Intanto, l'attrice che veste i panni di Matilde, in una recente intervista ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel cast della SOP opera. Ammettendo di essere grata a questo progetto. Nel dettaglio, l'appuntamento con il Paradiso delle Signore 7 si avvia verso il finale di questa stagione e al centro dell'attenzione, continueranno a esserci le vicende di Matilde. La moglie di Tancredi sarà protagonista delle ultime puntate dato che verranno riaperte le indagini per far luce sull'incendio al suo mobilificio. Un episodio che ha aperto una grave ferita nel cuore della donna, la quale in questi anni ha provato, con grande fatica, ad andare avanti. Eppure, proprio nel finale di questa settima stagione della SOP opera, per Matilde arriverà il momento della resa dei conti finale e molti dei modi che si sono intrecciati fino a questo momento, saranno finalmente sciolti. Non si esclude, infatti, che Matilde possa finalmente scoprire che dietro quel terribile incendio c'era anche lo zampino di suo marito Tancredi. Il quale fino a questo momento ha sempre taciuto la verità e fatto in modo che sua moglie non sospettasse nulla sul suo coinvolgimento. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà l'evoluzione del percorso tra Matilde e Tancredi. L'attrice ha rilasciato una nuova intervista in cui ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel cast della seguitissima SOP opera del primo pomeriggio di Rai 1. È stato un progetto molto combattuto. Esperienza incredibile, soprattutto perché io arrivo dal niente. Non sono un'attrice formata e lo vedo con il paradiso che è una palestra incredibile. Ha dichiarato Chiara Baschetti facendo così un bilancio decisamente positivo di questa settima stagione della SOP opera che l'ha vista protagonista assoluta. Per quanto riguarda il futuro, l'attrice non ha nascosto che le piacerebbe poter sperimentare e quindi mettersi in gioco anche vestendo e interpretando nuovi personaggi. Così da non dover rimanere ancorata per sempre a un unico progetto televisivo. Nici un curcubeu, da' ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Arunca spate, visele într-o geantă și pleacă, nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sac. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă juc tot.